la buon film forse come noi non potevano vincere vado un attimo in bagno banni minchia non ho fatto la foto vabbè peccato vado un attimo in bagno e arrivo cazzo io non ho fatto la foto di danni però ho fatto la foto di un giudatore ambicato lo aggiusti qua? qua so se... qua non worry piggy, i'll clean you up mmm 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 Sì La 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 Eccomi Bonny Eccoci Sto filo giusti? Questo? Dovui scendere Bonny Vai dimmi tu dove vuoi tu Prima hai scelto bene è andata bene Qua La vittoria era nell'aria Già da ieri sera eh Tu c'eri stato nel gulag In quella partita di prima o non sei mai morto? Sì siamo morti insieme Poi abbiamo vinto tutti e due il gulag Ce n'è uno Ti atterrà sotto dietro dietro Mi ha fatto Uno tritato Pensavo che eri tu Peccato Un altro tritato Si ho preso il contratto suca Lol C'è ho fatto 141 di danno vuol dire che quello è rimasto con 9 di vita Io li ho aiutati tutti e due Questo qua Andate a prendere il contrasto Io scivolo prima di lui Gli frega il contrasto e mi tira una botta in goccia e mi uccide Ok Ok viene verso il centro È sempre lì è sempre lì Dove l'hai visto Molotov Viene verso la tua destra Non lo vedo più è sotto di me Ok tornato in base È tornato proprio al centro della sua base Viene pusha verso la tua sinistra ora Quattro di vita Quattro di vita ho Bella Ho preso il contratto Se vuoi andarci Eh per forza dai ci vado Vediamo se sono là a camberare No boh il contratto in quella casa l'ho preso Pochino lo so La partita di prima me la vi Però non è stato un partitone Però ha dato gusto Mmm Non è stato un partitone però è stato bello È stato bello Perdiamo rilasciamo Ci uccidono Quello rinasce Mi uccide Ci uccide Poi rinasciamo di nuovo noi Lo uccidiamo Vabbè dai bella partita Alla fine non abbiamo camperato Allora va bene Abbiamo vinto tutti e due i GUEK Dai a cazzotti Un cazzotto gli mancava Quante vita c'aveva? 12 Quando c'aveva? 12 12 Niente Guarda l'accelerone Non l'ho visto Ma vaffanculo me ne vado Eh boh dai Nooo non è così impossibile vincere Solo Daro ha una sfortuna in corpo che riesce a perdere C'è Andre Nick Alla sua terza partita Non sapevamo anche che doveva fa Stavamo io Nick che era la sua terza partita E Kai che era ancora la quinta La sesta Abbiamo vinto E' Nick ha fatto 0 kill ma si è riuscito a vincere Cioè Nick aveva il percentuale vittorio di 0,33% Con un problema Poi qualcosa è andato storto Dove è lo scioppo il bonnie? Dove è che Come andiamo No No Come andiamo Alla sua parte non è andata Grazie a tutti. 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 Ecco uno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. buoni sono qua tutti e due che nabbi dietro dietro su catemelo porca troia devastante questa bomba devastante qual è tipo l'origin l'origin silenziato si chi faccia una foto che mi copio sta classico e niente andrea ha scritto imprevisto ok allora esco anch'io vedi se ho scattato la foto vabbè le foto escono sfocate vabbè dimmi il nome del progetto basta che fai triangolo e ti dice il nome del progetto triangolo mi cambia arma e poi quando lo rimetti vedi che ti dice il nome stirpe stirpe devi ci basta che cerchi stirpe e poi ti ah ok figo lo butto qua stirpe calibro 12 c'è scritto vieni qua vieni qua il grau comprati ti lasciati i soldi comprati il kit bombardamento bravo bravo maschera maschera se ti rimango non me li dai che mi compro una maschera tieni ti do tutto quello che di cui puoi aver bisogno quindi che mi prendo il grau per lontano tanto avvicinato il pompo qua c'è un'armatura stirpe bella mi piace sto pompa questa partita non lo è c'era la so full ma c'è una volta ma ok fammi vedere un po' la situazione andiamo sul suo tetto che dici vai ti seguo a ruote torre di merda un fall questo ce l'ho oh cassa bombardamento l'hai comprato? si hai bisogno di quest'altro lancio? no ce l'ho un cecchino abbastanza mi sembra buono perchè io neanche c'ho sta bomba che non me ne libererò mai questa è da gusto minchia siamo lontani però buoni niente non vogliamo lanciarci salgo su qua c'è che cosa hai come abilità ce l'hai troffi ah già ce l'hai ok eccolo questo è il pompacoglio stirpe ah questo? si ok io mi tengo il cecchino allora fammi vedere un po' siamo lontanissimi bonnie quindi ci dobbiamo lanciare si vuoi aspettare o ti vuoi lanciare ora subito? come quello che vuoi fare tu tu prima hai portato benissimo con le tue tattiche alla nick sul rainbow quindi 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 la è proprio un posto che mi fa cagare però che dobbiamo fare aspetta che giro la vittoria di prima guardiani tocca buttarci bonnie arrivo vai no mi sono glitchata ok quando corro col pompa è come se stessi correndo con una mitraglietta o no? un po' più pesante però meno pesante di un cecchino e di un mitraglione tipo un m4 si tipo ti ho raggiunto tu con chi stavi a camminare? con l'm13 ecco la con mezza raggiunta ah si si richiude verso le montagne Marta andiamo verso le montagne? eeeh si venga una montagnetta? qua c'è un ponte qua quindi occhio qua c'è il ponte opacità di qua no no ma andiamo a piedi bonnie andiamo a piedi ok già ci stanno facendo saltare in aria non so se te ne sei accorta si si ho sentito ma il lancio granate era? si eh stai imparando se ci prendevano era la fine possiamo farci tutto sto giro qua largo largo piano piano e chiudere sulle montagne è che non c'è il cazzo di cannocchiale come il cannocchiale è utile non pensavo molto anche perché se ti fa vedere io non l'avevo mai provato se ti fa vedere pure in bianco e nero si è perché io quando devo quello la è utile per vedere ma se io tipo c'ho un'arma che mi fa vedere bianco e nero non riesco a sparare mi da troppo ci sta qualcuno qua ci sta qualcuno qua è la base station giù si eccolo l'ho preso c'è n'è un altro c'è n'altro sono in due vediamo se riesco a prenderlo gli stanno a sparare gli stanno a sparare gli stanno a sparare due qua a terra tutti e due ok ci sta sempre quella sul tetto ma tu hai messo a terra quei due sulla strada o quella sul tetto quelle sulla strada dove è quella sul tetto fammelo vedere eccle non li vedi le luci si si ah addirittura me la mettono così sti figli bonny appena ti rianimo subito stai giù nella casa subito ci sei nella casa tu hai no ho due case diverse abbiamo preso vabbè l'importante è che sia al riparo si ma se ci pusci non sembra che ci stanno pusciando ok aspettiamo il gas ci muoviamo col gas stavolta ok si conga verso il bordo quante armature hai? cinque ok tu? pure io ho la cassettina casomai io ho c'ho una cinque che posso usare prova a prendere il contratto banni vediamo dove sfonda che contratto è? quello bandiera ok andiamoci aspetta che arriva da te ok 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 vabbò quando corro con il bravo ci metto sette ore dai ci facciamo pure sto contrattino così ci do un po' di corazze cosa? ci do un po' di corazze così sì perfetto ce ne potremmo andare più o meno prendi le tu prendi le tu che io già ce l'ho ah le ho preso te due aspetta no no a posto c'ho la cassettina bonnie c'ho la cassettina ok allora non so come dobbiamo cercare di attraversare qua e andare sulle montagne cazzo dietro ucciso bravo rianimami sto figlio di puttana che cazzo spara se è da solo io non capisco cos'è questo l'ammo box cazzo di munizioni prendilo tiralo giù ti servono? ma è un attimo che mi servono ok andiamo dai avevo qualche no ok buon indio in effetti è un rischio inutile forse mi sa sai cosa? andare sulle montagne potrebbe essere un rischio inutile ok mo ci dobbiamo andare lol è stato un rischio che va purtroppo piano 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 non ci vediamo là c'è gente no vorresti passare qua dentro? sì permesso buongiorno domani torni a lavorare sì sì lavori fino alle alle 6? 6 più o meno sì le 6 due quindi le mie 7 la domani sera allora e attacchi la mattina alle 6? la mattina? 7 e mezzo a 8 ok quindi le mie 9 proviamo a salire di qua ti seguo questa è una bella posizione peccato che ci guardano con la taglia la taglia cerchiamo di stare sì la taglia non credo venga qua su ah è un cecchino tu per cecchinarvi sì sì ok perfetto ok aspettiamo qua vedete qua sotto c'è qualcuno ok niente aspettiamo un minuto e poi ci muoviamo che ci scompare la taglia ok 50 secondi tu c'hai un bombardamento vero? sì armature quante ne hai? 8 te ne presto un paio? no 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 ho la cassetta fra un po' la usiamo eventualmente comunque secondo me hanno preso la taglia se vabbè metterci paura se si può salire qua su il bicchierino non è un bicchierino sapete il bicchiere ok qua è ottimo ok qua è ottimo se noi rimaniamo qua no 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 senza cannocchiato è dura però ce la possiamo fare qua c'è qualcuno comunque perché lo vedi che qua c'è una macchina vuol dire che qualcuno è venuto qua quindi stai attento tu c'hai cecchino ancora o pompa? pompa non l'ho trovato un cecchino sennò avrei pure cambiato forse per l'indigame era meglio il cecchino più che altro dobbiamo stare forse vicino al bordo della safe però vabbè ora si chiude vediamo dove si chiude ora si chiude più verso la strada secondo me vediamo ok continuiamo dritti piano piano però con il gas io direi il conto manca 50 secondi minchia però 50 secondi è tanto azione sarebbe ottimo eccoli là dove c'è la macchina ho visto degli spari ok la macchina è lì eh però c'è un problema come c'è andato là se qua ci stanno le rocce si può passare no? no no è fuori si allora niente scendiamo gioco piano 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 banni che ce l'abbiamo vicini secondo me si guarda là ce n'è due stanno fuori stanno dentro lascia il loadout se tu lo vuoi andare a prendere io quasi quasi cambierei il cecchino cazzo eh ma occhio eh vediamo vado prima io mi prendi il cecchino e mi lasci il pompa secondo te come vuoi tu come vuoi tu vado come iniziate voi vediamo provo a cecchinarla iniziate col pompa la finiamo col pompa dove ok ce l'ho visto si da qua adesso vedeci di un strike co coglione ok se ne sono andati eccolo ancora là perché ti ammira in aria stai in volo no è là guarda ok se hai glitchato il tuo mino stai guarda in aria non capisco cosa sta boom preso di nuovo a terra gli ho rotto l'armatura dove possiamo andare a ripararci banni siamo chiusi per una trazza che si fa quello sta ancora guarda vieni 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 io sto dietro sta piando eh ma c'è eccoli guarda qua sono le banni ci stanno lanciando falli 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 vai uno a terra tutti i coratti all'altro di nuovo a terra e mamma e mamma da dietro ci vengono dai cazzo sono qua a terra erano in due buttala l'aereo e vattene veloce 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 vai 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 dietro questo palo del traliccio ok sbraiate qua metti le mine attorno c'è pure le mine mettine un'altra pure qua e ti metti pure il trofi bravo e resta qua la camera uno contro uno bonnie ce la puoi fare porca madonna ce l'hai lì ce l'hai da quel lato là secondo me qua secondo me sì da questo lato o da lì o da sinistra ma comunque tu mo c'hai vantaggio perché ti devi spostare all'indietro e mi inizi a muovere secondo me sì vai vai muoviti muoviti però guarda bravo guarda dalle spalle sì bravo eccolo dai bonnie bravo bonnie è a terra si sta rianimando vai puscelo puscelo che è da solo finiscilo this motherfucker bravo seconda vittoria di fila finiscilo che animali gg bonnie ecco la clip sta partita che si inizia a far burma bravo che anche mamma mia dillo safi bravo bonnie due vittorie ragazzi infermabili questi due giovani bella bella il duo vediamo un po' quante kill ha fatto oggi il bonnie lol io zero grazie grazie